L'EMPA denuncia un giro di combattimenti fra cani come causa della sparizione di numerosi animali domestici di abitazioni canili. Nella zona della Vennate e del Faentino aumentano giorno dopo giorno i casi e le denunce di smarrimento, furto o sparizione degli amici a quattro zampe. L'ultimo un meticcio di pastore mare in mano, in questi giorni a Marina Romea. Nelle scorse settimane invece sono scomparsi nel nulla dalle proprie case un Siberianaschi in zona Cosina, un San Bernardo a Granarolo, entrambi frazioni in Faentine, un settele inglese dal canine di Via Plicca, sempre a Faenza e sempre un cane di grossa taglia a Russi. E giallo su chi, come e perché abbia sottratto questi animali dalle braccia di chi si curava di loro. Il sospetto più grosso e preoccupante è legato a un giro di combattimenti fra cani guidato da una banda di cittadini di Lido Adriano. I volontari dell'EMPA hanno già allertato i carabinieri che però tardano a intervenire. Nel frattempo si invitano i proprietari dei cani, residenti nella provincia di Ravenna, a prestare la massima attenzione. L'intento non è quello di creare panico o allarmismo, anche se la situazione inizia a essere preoccupante e molto sospetta. Francesca Diratta per Faenza Web TV